Decidere di vedere il cellulare a determinati orari, Netflix, PC, in determinati giorni, combattendo l'istituto di utilizzarli come riempitori di vuoto, può essere una soluzione? Allora, sì, le fasce orarie vanno benissimo, soprattutto con i ragazzini più giovani. Poi è crescendo, è anche normale che un ragazzo acquisisca la sua autonomia di movimento. Anche per gli adulti è utile? Per gli adulti anche, sicuramente, sì, sì, quello sicuramente, sì, sì. Un po' quello che dicevo prima, si collega al discorso dei dumb phone oppure del disinstallare certe applicazioni dal cellulare in modo da obbligarci ad usarlo solo in determinati momenti, in determinate fasce. Io ad esempio non installo l'applicazione Netflix sul cellulare, così mi obbligo che se voglio guardare un film e devo farlo a casa, ad esempio, con la mia smart TV, ad esempio. Ok, faccio questi esempi. Quello sicuramente aiuta tantissimo. Creiamo un contenitore, cioè, perdono, un contenimento, che in alcuni casi è anche fisico, perché io devo, per tutti i costi, essere a casa per usufruire di un certo contenuto, e anche di tempo, questo sicuramente aiuta tantissimo. Attenzione, sempre però, rimane dall'idea, d'accordo, ma con quel tempo che io risparmio, che cosa ci faccio? Ok, io e anche i ragazzi. Poi magari può anche essere semplicemente cazzeggio, va bene. Ok? Ok. Però dobbiamo sempre prevedere comunque un qualcosa.